Musica 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 Allora, chi ha una casa per tenere il mio cellulare che bella ha detto che si chiamano di quanto tu mangia? No. Siamo solo a questo. Tenere oggetti. Perfetto, allora se suona. Io sto riprendendo. Sono stato evaporati a... Come vanno con questa luce le foto? Vanno. Ciao! Sto facendo un video. Ciao! Che video poi c'è una cosa più divertente. Ma la versione extended della versione. Ma che lo dici? No. Le ermioni che si... Ci autogestiamo! Autofotografano i cloni. Sì. Ah, stai facendo un filmato? Sì. Ah, ecco. Io non ero a Cremona. Dove eri? Petrignano da sì. Era a Kremenwald. Perché hai detto a tutti Cremona? Perché ero convinta a Cremona? E non ve lo dico, non ve lo dico! Ciao! È meglio che non ve lo dico quella. È un filmato, quindi. No, ma come ho filmato? Ma perché mi mentre mi ci stiamo... Sì. Lei è la mia chauffeur. Perché in realtà Harry Potter non finisce come l'ha scritta quella coglionazza della Rowling. No, nessuno saprà come finisce davvero Harry Potter. Allora, la realtà è che io sono diventata la massaggiatrice personale di Rita Skeeter. Rita! 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 Niente, non mi caga. Tonks è diventata la mia parrucchiera. Minerva è la presidentessa di Hogwarts. E l'oscuro signore è andato in vacanza alla Hawaii. Per quello che adesso è colorato. Se lo inquadri vedi che è più colorato. E in effetti, l'oscuro è molto oscuro. E beh, ognuno deve andare in vacanza. Due, tre, testa! Brava! Adesso l'aria è un pochino più vissuta. È molto grasso come topo, vuol dire che mangia bene. Che cosa sembra da qua? Che cosa sembra da qua? Che cosa sembra? Ecco. Buttai giù la treccia! Buttai giù la treccia! Buttai giù la treccia! Non si vede, eh? Manca delle singe. Un po' di mette qua. Modello numero quattro, Hogwarts. Modello scuro ma sbarazzino. Scuro ma sbarazzino! Per le frivole giornate nei giardini di Hogwarts. Siete già riprese, eh? Sì davvero! Possiamo andare. Con questo charm. Hai fatto video o foto? Sì, video ho fatto. Ok, io ho fatto foto. Ma me l'ha sfilata delle crifondoriane. Ma pare che tu l'ha sfilata! Fermo! 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 No! No! Fermo! Fermo! Niente, è troppo contenta Scudino. Beh, sarebbe anche ora, dai. Iris, ma hai fatto le... Ubu! Ubu, ciao! Ciao! Eh, però, c'è ricco! Vado i mancetti! E dopo, la pioggia, tutti a casa, cercando di... Vado i mancetti!